Ciao, sono Andrea Zingari. In campo mi piace dare fantasia. E se riesco faccio anche gol. Bomber, preferisco Andrea perché è Bomber ogni stagione a sé e ovviamente sono un attaccante e spero sempre di fare gol, però non sono una prima punta, sono un trequartista attaccante esterno, quindi diciamo che il Bomber di solito è il 9, il 9 è il classico Bomber. Il primo su rigore, il secondo è una punizione, sono abituato a calciarle, mi alleno per quello, per metterla dentro e quindi sono contento che sono riusciti subito alla prima giornata. Spero di farne altri, di farne tanti altri. Mi dispiace che non sono serviti alla vittoria, a portarci a vincere perché è la cosa fondamentale quella, però cercheremo assolutamente domenica di portare a casa i tre punti. Domenica sarà una partita tosta, so quanto ci tiene la piazza, i tifosi, tutto l'ambiente Pavia a questa partita. Spero che i tifosi per noi siano il dodicesimo uomo che ci trascinino alla vittoria e noi daremo anima, cuore, tutto per cercare di portare a casa questi tre punti che saranno fondamentali per noi. L'obiettivo del Pavia? Una piazza come Pavia ha l'obiettivo sempre di vincere e quindi noi cerchiamo di vincere le più partite possibili per cercare di regalare questo sogno ai nostri tifosi e a questa piazza importantissima. Il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è lo stesso, è lo stesso obiettivo che ha la società, cioè di cercare di vincere. A me piace vincere, anche se gioco come un nipotino voglio vincere, quindi ho dentro questa cosa qua di vincere e quindi spero di riuscire a esaudire questo sogno che abbiamo tutti.